Nove anni intensi, nove anni importanti per questo ente che lo hanno visto crescere e l'hanno visto strutturare. Ma è anche vero che il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno è un ente moderno, che sta al passo con i tempi e che guarda al futuro. Il Consorzio di Bonifica spegne nove candeline e in occasione di questo compleanno ha deciso di ringiovanire la sua immagine con la nascita di un nuovo sito. Con un clic sarà così possibile inviare segnalazioni, presentare istanze e consultare la mappa dei lavori di manutenzione sui corsi d'acqua. Uno strumento moderno che deve essere d'aiuto sia per i dipendenti dell'ente in tutti i vari settori, ma soprattutto per chi si interfaccia con il Consorzio. Il Consorzio di Bonifica Alto Valdarno, frutto della legge regionale 79-2012, è nato ufficialmente il 14 febbraio 2014. Da allora, con il reordino delle competenze in materia di bonifica, è iniziata una nuova era. Abbiamo oggi un ente strutturato, un ente che ha una sua valenza, capacità e riconoscibilità nel territorio. Siamo riusciti a mettere a livello un programma e un piano di manutenzione di interventi sul reticolo idraulico che sono sotto gli occhi di tutti. Malgrado i cambiamenti climatici, malgrado le bombe d'acqua, malgrado tutto, vediamo che rispetto ad andamenti atmosferici avversi, gran parte di quelle che sono le precipitazioni oggi rimangono all'interno degli alvei. E questo grazie all'attività del Consorzio, grazie alla vigilanza che facciamo, grazie anche a quella, va riconosciuto, questa lungivenanza che ha avuto la regione toscana nel rapportarsi con la difesa idraulica con il territorio.